E' il numero 15, si chiama Luca e si porta a Maltata... RICOLEGENDA! Benvenuti nella banda dell'educazione. We're in the top of the world! Spons are rising, countless worlds collide, only one will take it home! Can we begin to follow the challenge? Can we make the final call? E' il numero 15!